È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi in vigore il decreto legge relativo al Green Pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Il decreto prevede che il lavoratore che sia sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Lo prevede il testo finale firmato dal Capo dello Stato che rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi elimina ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. Inoltre non scatta più la sospensione ma per tutti dal primo giorno di assenza non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o immolumento. Solo nelle aziende private con meno di 15 dipendenti, al quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione di durata non superiore a 10 giorni e rinnovabile solo una volta. Dal 15 ottobre arriva l'obbligo di Green Pass anche nelle aule dei tribunali ma solo per i magistrati, restano esclusi avvocati e testimoni. Grazie. 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 Grazie.